si parte bene di l'asso non usa i pesi oggi non pensare al sasso falla continua senza fermarti e secondo me è abbastanza la prima è perché tanto tiene volevi fare il sasso sei impazzito non capisco dov'è che sbagliate lo vedi già dalla faccia quando fa il sasso è sempre troppo avanti e tu sei sempre sul manubrio non c'è un cacchio da fare tiriamo lui indietro tu invece adesso ho imparato a stare molto più indietro vedi che guidi molto meglio lui invece è ancora tutto sul manubrio non lo so non lo so vedi vedi che gli sta dicendo quello devi stare indietro eh ma lui butta giù la moto e non va a fare non lo so non lo so non lo so non lo so ma lui non lo so non lo so bisogna che compriamo un Fanti 240 gli facciamo fare le zone tutte con quello che devono imparare per forza se no non si muovono perché è così? se no non si muovono la storia è una bella dall'esterno quando ero sulla moto la pratica la veniva ah dall'esterno veniva con un minuto minuto il frattaccio secondo me ci sta per un corso del cuore il lì visto che non è possibile si può fare